Ospite di Caterina Balivo su Rai 1, Raffaella Fico ha raccontato il buon rapporto con il padre di sua figlia nata nel 2014. Da circa una settimana sappiamo che Mario Balotelli si sta allenando con il suo preparatore atletico invece che con i compagni di una squadra. Questo perché una squadra lui non ce l'ha. Al momento il 34enne calciatore è ancora in attesa di un ingaggio, dopo gli ultimi anni trascorsi in Turchia e in Svizzera, ripettivamente nella Dana De Mispor e nel Sion. C'è qualcosa però nella vita di Balotelli che funziona bene, cosa non scontata, che è il rapporto con Raffaella Fico, madre della sua prima figlia avuta nel 2014. A raccontarlo è proprio lei. Raffaella Fico parla di Balotelli. Siamo come fratello e sorella. La loro bambina si chiama Pia e oggi ha 11 anni. La relazione tra Mario Balotelli e Raffaella Fico non è durata molto, il calciatore ha avuto poi un secondo figlio da un'altra relazione nel 2017. La modella e Shoregirl però ha spiegato che non c'è alcun rancore legato al passato, anzi. Se lui vuole un consiglio sulla sua fidanzata, magari qualche volta se ci litiga mi chiama e si vuole sfogare. È uno sfogo perché ormai è come se fossimo fratello e sorella. Perché abbiamo proprio superato tutto, siamo oltre? Ha raccontato Fico a Caterina Balivo che l'ha ospitata nel programma di Rai 1 la volta buona.